Sono i principali sospettati di almeno due rapine a mano armata in una farmacia di Succivo in provincia di Caserta. Incastrati dalle telecamere di sorveglianza, tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, tutti originari di Caivano in provincia di Napoli, sono stati fermati dai carabinieri. Le rapine risalgono lo scorso giugno e alla prima settimana di agosto. Dopo aver visionato tutti i filmati del circuito di sorveglianza interno della farmacia, i carabinieri sono riusciti a risalire ai tre baby rapinatori e alla moto da loro utilizzata per la fuga. Dalle immagini è possibile vedere le modalità della rapina, con i tre minorenni che armi in pugno seminano il panico tra i clienti facendoli stendere con la faccia sul pavimento. Al momento della cattura uno dei tre rapinatori ha tentato la fuga ma è stato bloccato nei pressi di Mondragone sul litorale Domizio. Il tribunale ha convalidato il loro fermo disponendo il trasferimento dei ragazzi nell'istituto di pena minorile di Napoli.